La Fondazione Alario Perelea Velia, in collaborazione con Cilento Film Music Festival e Film Studio, organizza la rassegna cinematografica 3C Cibo Cilento Cinema, la conoscenza del territorio attraverso la grammatica delle immagini. Dal 19 novembre al 13 dicembre 2019, proiezioni e sessioni didattico-seminariali con le scuole della Campania e giornata finale presso il Cineteatro Parmenide di Ascea. 3C Cibo Cilento Cinema, la cultura cinematografica attraverso filoni tematici di identità territoriale. Dal 19 novembre al 13 dicembre 2019, cibocilentocinema.it Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso dal MIBACT e dal MIUR.